Partiti. Travalli prossimi all'imbocco della piegata con Briganteo Faes a scandire il ritmo in avanti nei confronti di Alca Luminosa che si mantiene alla lunghezza e mezza. Poi in terza posizione Singapore Black, quindi Dragatè a lungo la corda, al suo esterno Danidis, ancora Armenian Force, Livius Monte, Walker e Alca Plerun. In tale ordine si entra in retta d'arrivo con Briganteo Faes in vantaggio, al suo inseguimento si mantiene Alca Luminosa. Poi Dragatè per Barchi, a centropista Singapore Black che trova l'azione a 250 dal traguardo per linee esterne Danidis, quindi Armenian Force. Siamo ai cento conclusivi con Singapore Black che prende il tempo agli avversari. Singapore Black, la qualità di Singapore Black, poi a seguire il 5 di Briganteo Faes, Armenian Force. Successo per Singapore Black, Singapore Black numero 9 dello schieramento, risolve questo premio lirici greci abbinato all'Ippica Nazionale. In sella Daniele Scalola, 3,66 la quota di Singapore Black che vince. Poi al secondo posto dovrebbe essere arrivata Briganteo Faes. Ecco, stiamo rivedendo proprio i metri conclusivi con Briganteo Faes al secondo, numero 5, poi il terzo, Armenian Force numero 3.